Ciao a tutti da Insorto Contadino, oggi vi presento uno sport di spiaggia molto in moda qui in Brasile, il frescoball. Sì, in Italia c'è il beach tennis, qui c'è un frescoball. Il frescoball è praticamente la versione professionale dei racchettoni. Si può giocare normalmente in coppia, a volte si fa la cosiddetta trinca. Due restano da una parte e uno dall'altra. La differenza è che la velocità è molto più grande rispetto ai classici racchettoni nostri, perché la pallina e le racchette sono fatte molto meglio. Ci sono anche campionati. La differenza è che, mentre nel beach tennis giochi contro l'avversario, qui giochi con il tuo compagno, cioè l'obiettivo del gioco è fare il più bel gioco. Infatti nei campionati ci sono i giudici che valutano, dando un punteggio, la coppia migliore, a seconda dell'attacco, la difesa, la velocità della pallina. Vedete che questi sono alcuni dei migliori giocatori. Questa con la maglietta azzurra ha vinto anche alcuni campionati. E questo è il materiale. Ci sono racchette di legno, come questa. Ci sono racchette in fibra. Ci sono racchette anche in carbone. E questa è la pallina. E' praticamente, per farvi capire, come una pallina da tennis, senza il rivestimento giallo, come se fosse solo l'anima della pallina da tennis. Il vantaggio è che non hai bisogno di mettere sulla rete, sul campo, eccetera, eccetera. E' un ottimo sport per fare amicizia. Io ho fatto un sacco di amicizie grazie a questo sport. Le persone di solito sono molto accoglienti, ti fanno giocare, anche se soprattutto se vedono che sei lì fuori, restano molto incuriositi. L'altro incuriosisce, non intimorisce, come in un certo posto. Questa tranquilla e soleggiata domenica di fine estate qui da noi, inizio autunno, vi auguro buona vita a tutti noi. Grazie.